Sabato 17 agosto 2013 e partiamo dalla riete. Migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia. Toro, tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure, prendete tempo. Gemelli, avrete finalmente la possibilità di far valere le vostre ragioni un po' in ogni settore dell'esistenza. Se siete stati vittime di qualche sopruso, adesso potete ottenere giustizia. Cancro, tenete a bada il nervosismo. Oltre ad accompagnarsi a incomprensioni con soci e colleghi, potrebbe rallentare il vostro lavoro. Leone, splendido periodo per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Vergine, l'ideale sarebbe risolvere le questioni stagnanti anche se richiedono tempo e calma, in qualche caso decisioni anche drastiche. Bilancia, siate più fiduciosi e aperti ai nuovi rapporti. Date spazio alla curiosità e vi troverete in situazioni appassionanti. Scorpione, la routine quotidiana vi porta a malinconia. Cambiare le vostre abitudini per un po' di tempo non potrà che farvi bene. Cercate nuovi interessi che vi stimolino intellettualmente, ritroverete presto tutto il vostro entusiasmo. Sagittario, per dare un'impronta diversa alla vostra vita avete bisogno di lucidità, volontà e validi consigli. Approfittate dei favori astrali odierni per attuare cambiamenti o far decollare nuovi progetti. Capricorno, giornata sottotono, stancante e nervosa. Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Acquario, simpatici e comunicativi, avete sempre una grande cerchia di amici che conta su di voi. Non vi risparmiate in inventiva e originalità. Pesci, se la situazione nell'ambiente di lavoro è un po' agitata, fate finta di niente e coltivate i vostri beneamati spazi extralavorativi per rilassarvi. E anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Vi aspetto domani alla stessa ora.